bene alla grande allora si parte pronti partenza e via ufficiale ciao a tutti allora ragazzi allora il webinar di questa sera come diceva giustamente luca è incentrato sul mondo delle vendite online e più precisamente sui metodi strategie i canali software per vendere online perché il vendere online soprattutto dalla pandemia in poi devo dire è vero che ha interessato tutto e tutti però in realtà è stato fatto in maniera estremamente dilettantistica da tantissime persone quindi vendere online si fa e come le vendite online e come eccetera sono cose che funzionavano eccetera ma non si fa così alla leggera così facile bisogna fare le cose correttamente e all'interno di questo web era quindi vi parlerò di vendita online ora poi in realtà i modelli per vendere online sono tanti l'e commerce in se service quindi in in auto come dire in se serie cioè dove l'utente fa tutto da solo come su amazon sono il modello più estremo ma in realtà modi per vendere online senza arrivare a questione estremo ce ne sono tanti tra cui la vendita consulenziale assistita anche da persone via chat via telefono via 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 anche videocomunicazione sono sempre dei modelli di vendita online ora all'interno del webinar i riferimenti che vi farò sono parte del dsf si chiama digital strategy framework è un metodo che in digital coach abbiamo creato un po di anni fa che serve sostanzialmente aumentare i fatturati delle vendite online di un'azienda attraverso strategie integrate che mettono insieme l'azione di canali e strumenti digitali in sostanza un gioco di squadra per arrivare il risultato quindi questo è un po la la cosa ora il webinar chi può interessare particolarmente sicuramente le aziende che aumentano che 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 devono aumentare i fatturati online riducendo costi inefficienze a coloro che vogliono vendere online ma sono molto confusi e dalla pandemia in poi effettivamente dal 2020 in poi per esempio abbiamo notato che tra le persone che ci chiedono informazioni sui nostri percorsi di formazione coaching consulenza strategia cosa del genere ce ne sono davvero tanti che si sono avvicinati al mondo del drop shipping al mondo della vendita su amazon cosa del genere ma devo dire che quelli che davvero poi sono riusciti che almeno quando quando arrivano noi che poi erano riusciti a un fatto quindi è il loro adorcipi loro e commerce cose ma poi arrivano da noi disperati perché hanno messo su tutto sto impianto questa cosa ma non vendono o comunque vendono a valori di fatturato inferiore costi che sostengono e quindi lì si hanno messo in piedi loro del cip il loro modello di vendita anche sua mamma poi non è profittevole quello quello è un problema ora si tratta c'è molta confusione anche perché soprattutto negli ultimi due anni tutto e tutti troppi fuffa guru permettetemi hanno diffuso online l'idea che fa il drop shipping fa la vendita su amazon poi i soldi semplici facili veloci falli come falli come il mio studente che vada gli autos a questo è tutte cavolate tendenzialmente nel senso che si può vendere si può fare si può fare anche anche i soldi ma bisogna fare le cose fatte bene nei tempi giusti nei medi giusti facendo le i giusti passaggi e la variabile chiave sostanzialmente avere le conoscenze giuste per farlo bene tra gli altre persone destinatari sicuramente ci sono anche quelli che faticano vendere l'abbiamo detto e anche coloro anche l'altra cosa l'altro fenomeno che ho visto molto in salita molto in salita nell'ultimo paio d'anni insieme a questa euforia per l'e-commerce soprattutto il drop shipping ma di cui il 90 95 per cento poi non riescono poi a sostanzialmente a funzionare con il modello profittevole finché non si decidono a capire a formarsi bene imparare le cose giuste e mettere in piedi una struttura corretta ma al di là di questo l'altro fenomeno che ho visto in crescita è anche quello di aziende che arrivano a volersi formare e migliorare le competenze interne perché deluse dei risultati portati da web agens e consulenti online questo fenomeno in grande crescere le web agensi consulenti sono una cosa una risorsa anche importante però purtroppo anche qui nell'ultimo paio d'anni anche qui il mercato si è riempito di operatori che come dire con basse competenze o compromesse anche qui un pochino troppo facili da questo punto di vista cosa imparerà in questo webinar gli errori più frequenti che commettono le aziende che vogliono migliorare vendite online cosa devi fare per migliorare progressivamente i tuoi risultati e poi soprattutto rimanerci nel medio lungo termine la strategia il metodo per aumentare le vendite online in particolare questo digital strategy framework come dicevo e fine alla fine se volete vi darò un suggerimento su cosa si può fare un'idea su un modello alternativo al problema che appunto vediamo sempre in crescita del rapporto tra aziende web agensi e consulenti online che le agenzie e consulenti online dovrebbero essere il team digitale esterno un'azienda però c'è un'alternativa probabilmente anche molto interessante per le aziende che magari sono rimasti delusi da agenzie e consulenti online io sono luca papa dirigo digital coach e con le cose che per un po di anni sono stato uno dei soli quattro trainer ufficiale di google per per l'italia come avete visto il modulo di di se ho inventato e ideato questo moto metodo di strategy framework considerate comunque che le cose che vi dico sono frutto di 10 milioni di euro di euro di vendite cioè il modello di già stati di framework che che in cui vi introdurre oggi è un modello che a noi per noi in digital coach ha prodotto già più di 10 milioni di euro di vendite online in servizi tra le regolette nemmeno in prodotti mini con marginalità molto più alte rispetto al mondo dei prodotti in carriera ho formato più di 35 mila professional di aziende top qualche centinaia di aziende top detto questo il canale youtube e tutto il resto sono delle fonti su cui potete approfondire sicuramente youtube e link sono i canali che uso di più per per fare divulgazione bene detto questo perché dovresti fidarti di quanto abbiamo detto allora sostanzialmente oltre al tema dei fatturati c'è anche il tema delle aziende che come dire con cui si si lavora con digital coach abbiamo con aziende sono inter elevati ora passiamo però ai contenuti le cose più interessanti gli errori che commetti più spesso anche qui perché un po perché abbiamo in digital coach un punto di vista privilegiato sugli errori che commettono gli commerce le aziende sia grandi che le medie che le piccole abbiamo punto di vista privilegiato perché tipicamente da noi arriva l'imprenditore o il manager d'azienda di fatto o il market in mezzo di un'azienda quando arriva non è che arriva quando quando dice stiamo avviando un progetto online e quindi la prima cosa che penso è quella di migliorare le mie conoscenze no di solito arrivano quando hanno dei problemi e problemi sono proprio quelli che vi dicevo mettono su un e-commerce che poi non vende o che 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 aveva fatturato inferiore ai costi che sostiene oppure mettono in piedi un modello per aumentare le vendite online ma anche qui con magari hanno agenzie consulenti online che non funzionano alla perfezione o che gli costano troppo tendenzialmente oppure ancora mettono insieme delle 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 un team ma capiscono una due persone ma casino che poi quelle di una o due persone non gli bastano per fare le cose che servono nell'online quindi tendenzialmente arrivano da noi aziende che hanno già sbagliato battuto la testa di fatto e quindi noi conosciamo tutte le casistiche vediamo gli errori più ricorrenti che abbiamo visto in questi anni soprattutto negli ultimi due anni quindi più o meno tra il 2020 e il 2022 ma insieme a questo poi vi oltre a presentarvi gli errori cercherò di condividere con voi anche le strategie che invece funzionano quelle con cui poi invece vediamo aziende che invece funzionano sono sane sane nella loro presenza online nei loro risultati online partiamo dagli errori però più ricorrenti e vediamoli uno per uno la lista della spesa il primo sicuro di sapere qual è un minuto di silenzio e vediamo se se succede scrivete a luca secondo voi qual è così vediamo facciamo questo quizzone diciamo questo quizzone vediamo luca ti arrivano un po di risposte ora vediamo scoprirete se avete ragione oppure no è una cosa è un testo interessante da fare quindi via la timidezza visto che siete qui in centinaia e scrivete qual è il più ricorrente il più ricorrente di tutti ovviamente non si vende abbastanza online vediamo che dicono luca che devo aspettare con il ritardo solito della chat scrivete scrivete però io vi sto per dare una serie di risposte più o meno sono anche in ordine di frequenza più o meno le le cose che chi vi dirò ne abbiamo visto di tutti i colori chiaramente però ci sono alcuni è un altro luca che sta scrivendo oltre noi che sta dicendo sbagliare business in che senso luca sbagliare business oppure voglio molti molti effettivamente sbagliano addirittura il business quindi molto spesso guarda la partenza sbagliere intende dire cioè devo vendere scarpe devo vendere profumi o devo vendere cose perché il per il drop shipper tendenzialmente la cosa vale l'altra spesso in realtà non è proprio così comunque te ne leggo alcune allora dicono sbagliare business voler guadagnare subito è sicuramente vero non non avere una conoscenza corretta da digital strategy sbagliare posizionamento oppure sperperare credo soldi sul sulle arts allora va bene ci sono delle risposte interessanti già in queste che mi dici sicuramente molto interessanti quelle sulla digital strategy interessante quella sulla sul il giusto posizionamento sicuramente sperperai sono di nals le arts per un e-commerce per chi vuole vendere una cosa necessaria poi la questione che vanno fatte correttamente devono essere redditizie quindi tendenzialmente ora vediamo però quali sono comunque ci sono già delle risposte che hanno come dire ha centrato alcuni dei punti vediamoli un po numero uno è sufficiente pensare molti imprenditori d'azienda pensano che che mettere su un sito e-commerce è sufficiente per vendere una invece non è proprio così fare un sito e commerce e come semplicemente aprire un negozio sulla cima del monte everest no anche se il negozio è fantastico arredamenti fantastici ha detto dentro prodotti incredibili eccezionali e ha commessi stratosferici non venderà un centesimo a niente nessuno perché sta sulla cima del monte everest molto semplice in italia ci sono milioni di siti web il problema non è fare un sito web il problema è portare la gente la su questo sito web la gente giusta quella di qualità quindi la differenza nel mondo dell'e commerce non la fa il sito e commerce il cms magento shopping ecologia la differenza la fa la capacità di saper fare digital marketing quindi avere un modello di vendita efficace in termini di strategia processi canali strumenti così via errore numero due pensare anche qui molti imprenditori arrivano ebbè ma le web agis il consulente non mi hanno solo fottuto soldi e io non riesco non ho venduto speso tanto venduto io dico sì va bene ok l'agenzia il consulente vabbè ti avrà fatto anche spendere dei soldi però tutti devi prendere parte della responsabilità chi ne prende la parte responsabilità perché comunque vi assicuro io anche qui noi formiamo oltre alle aziende anche le web agency e consulenti la mia formati qualche migliaia in questi anni di web agency di consulenti quindi e vi assicuro che anche tra di loro ne ho conosciute tantissime vi assicuro che anche tra quelle brave nessuno di questi vedi fa vendere da soli semplicemente perché li ingaggiati e loro vendono e basta è un gioco di squadra quindi le vostre conoscenze e anche parte dell'attività che fate voi che dovete fare voi è fondamentale perché la web agis il consulente funzioni numero 3 non possiamo investire budget in digital marketing e allora lascia stare nel senso non metterti a vendere online nel senso che puoi anche farlo ma quando vuoi fare attività organica ormai l'organico sui social quindi fare post social e pressoché niente nel senso come 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 vendite cosa del genere al limite l'organico su google ha un senso ma per ottenere risultati ti serve almeno un annetto di tempo e fare investire non budget ma tempo energie competenze persone per fare seo quindi pensate si può fare ma l'operazione non immediata quindi tendenzialmente un po di budget qualcosina ti sarà un problema non è un costo per chi sa fare digital marketing il budget è solo un investimento il budget nostro digital coach sui canali che noi utilizziamo di più è infinito cosa non è infinito vuol dire che noi conosciamo le campagne che roi hanno che ritorno sull'investimento hanno e io dico su questo tipo di campagna più soldi ci posso mettere più sono felice di metterceli perché metto dentro uno e mi porta quattro quindi per me va bene quindi più soldi posso metterci e più sono contento perché perché conosco rendimenti quella campagna quindi è un errore pensare gli investimenti di adverta se eccetera come un costo ma vanno visti come un investimento che deve portare un risultato quindi questa è la cosa per cui l'investimento corretto deve renderti felice non non preoccupato quando è corretto ovviamente per arrivare al senso e corretto da fare cose giuste però il numero 4 con quel canale facebook youtube faremo tutte le vendite anche questa è un'altra delle cose che molti fuffa guru in questi anni hanno hanno come dire messo nella testa le persone ci sono stati gli anni in cui tu dici avrai su facebook e fa un sacco di soldi su facebook fai facebook alza per sacco di soldi poi ci sono stati gli anni in cui diceva i sei fai un sacco di soldi poi l'influenza del marketing fa fare un sacco di soldi ora siamo nell'anno in cui youtube ti deve far fare un sacco di soldi ma tanto ogni volta che dico c'è un sacco di soldi e formano un po di persone col dire quel canale fa la differenza fate tutti questa cosa nel giorno di qualche mese quel canale si intasa di dilettanti che spendono soldi baggio eccetera le aste diventano competitive gli utenti sono martellati di gente che ti fa tutti la pubblicità tutti uguali tutti che ti fanno la pubblicità uguale guarda vorrei invitarti a un webinar oppure vorrei darti tre video dopo questa sequenza di tre video tutti che fanno pubblicità su quel canale prima era facebook adesso youtube e dopo qualche mese l'effetto è semplicemente che quando tutti fanno la stessa cosa per nessuno funziona è molto semplice quindi non è c'è c'è non è che youtube che fesso sia magico o sia uno schifo che youtube sia magico fosse uno schifo è semplicemente che le strategie cambiano cambiano continuamente e bisogna saperle modificare oltretutto così come nello sport un solo canale non fa mai da solo la differenza l'altro errore numero cinque replico il metodo che insegna il guru x funzionerà anche qui ti do i fan nel mondo del fan nel marketing anche qui abbiamo avuto un due tre anni in cui c'era l'entusiasmo per il fan nel marketing no anche adesso ogni tanto ne sento qualcuno guarda questo fan nel il fan nel fatto così ti do il mio template del mio fan nel che mi ha fatto fare c'è così gli altri prendono replicano quel fan è esattamente uguale peccato che tu non ottieni minimamente il risultato che ottieneva quell'altro perché i fan nel non funzionano sempre per tutti non funzionano sempre non funziona in tutti i momenti non funziona in tutte le stagioni non funziona ma va ogni volta modificata messa a punto la strategia in funzione del mercato del tuo prodotto dell'azienda del momento competitivo della stagionalità del momento di come i canali di marchi si vendono online e quindi non è un fan nella magia ma è la tua capacità di saper modificare i fan nella magia quindi questo può la cosa errore numero 6 se strano strategia efficace sono a posto mi danno la formula ingaggio al consulente mi dice la formula per fare il fan nel canale tutta l'ora questa cosa funziona mi funziona sono felice ho risolto la mia vita no tanto tra qualche mese quella cosa non funzionerà più il digital marketing digitale il mondo dell'e commerce sono i mondi estremamente dinamici quando qualcosa funziona dopo qualche mese vai tranquillo che smette di funzionare non c'è non ci devo non vuol dire che tu non debba fare più niente perché poi tanto durante un po di mesi smetti funzioniamo vuol dire semplicemente che tu deve avere l'intelligenza tu le tue persone la capacità l'intelligenza di capire cosa è cambiato sul mercato e cosa devo muovere io per funzionare di nuovo tendenzialmente questa è la cosa da da fare bene se abbiamo visto gli errori ora andiamo a vedere invece cosa si può fare per sostanzialmente per raddoppiare le nostre vendite online perché poi alla fine raddoppiare vendite non è un non è un'operazione difficile soprattutto quando un'azienda a livelli basici nel suo marketing online è abbastanza semplice arrivare a raddoppiare un po come è un se se io sono già uno sportivo in gran forma ok è molto in forma e voglio perdere quattro chili per perdere quattro chili faccio una fatica enorme perché sono già in forma se invece sono una persona obesa quindi che non ha mai che non ha mai fatto diete non ho mai fatto sport e quindi sono messo male in questo momento sono intenzialmente non ho mai fatto quella cosa il momento in cui mi metto dieta quattro chili perdo in una settimana anzi forse in tre giorni in quattro giorni quindi si fa presto quanto più sei basico tanto più se fai le cose giuste vedi dei risultati quindi sembra un paradosso ma è mai così la questione ora il digital strategy framework come dicevo è un modello che in digital coach abbiamo creato qualche anno fa perché qual era il problema già un po di anni fa in realtà adesso molto più sentito il problema il problema era ed è un pochino questo ogni anno c'è il canale di turno e sembra che quel cane di turno debba fare le magie miracoli ogni volta sembra che le aziende ingaggino il manager seo il manager sociale sembra che quella persona debba fare miracoli deve fare i risultati oppure ancora ogni anno esce fuori una roba che una volta si chiama che non so grotta king un'altra volta si chiama fa nel marketing tendenzialmente e con questa dici segui il mio metodo di fare ma che fai so oppure segui molti del grotta king che ti do è tutte le cose funzionano ma in realtà tutto questo non funziona sempre non funziona comunque non è sempre così il problema è un pochino questo il è un po' come dire se tu vuoi vincere un campionato una champions league non esiste giocatore che da solo vince non esiste il il reparto l'attacco la difesa il centro cal portiere chi da solo vince non esiste così come nello sport anche digital marketing ormai è questa cosa cioè non stiamo più facendo una partita scapoli ammogliati in cui sono io fortissimo fuori classe prendo palla scarto tutti arrivo in porta da solo e vinco da solo le partite non era partita scappoli ormai il marketing online è competitivo quindi per vincere in questo sport bisogna mettere insieme una squadra e fa le cose correttamente quindi da qui abbiamo creato un po di anni questo metodo che cosa serve uno a definire una digital strategy integrata quindi questo è il primo punto un canale da solo un professionista solo un consumente da solo non ti non ti svolteranno soprattutto non per sempre le vendite della tua nella tua azienda quindi principio numero uno quindi una una strategia integrata che mette insieme più canali più strumenti insieme google con facebook con linkedin con youtube con remarketing con display con il sito ecco la strategia integrata di queste cose numero uno ma non lo due l'altra caratteristica fondamentale capace continuamente di evolvere e muoversi perché come vi ho detto lo so che tutti c'è tirano la molesca e ci cascano dentro tutti no quest'anno cascano nell'esca facebook l'anno prossimo scalco nell'esca nell'esca instagram ora cascheranno nell'est nell'esca tic toc eccetera no ma in quel momento non è la questione in quel momento la cosa che tira va a dire fin quando tutti si rendono conto di quella cosa non funziona cambiano la cosa il discorso è che qualunque cosa anche se oggi funziona tanto poi domani smetterà di funzionare quindi la cosa che più conta è la mia capacità di far evolvere continuamente la mia strategia digitale e di saperla sempre modificare migliorare ottimizzare nel tempo ora quali sono i principi chiave di questo metodo di fatto partiamo da un presupposto il problema delle vendite online non è il budget spesso ci si nasconde ma non ho il budget ma non è quella la questione nel senso che in digitale cosa ci siamo partiti un po un po di anni fa il nostro budget era che ne so 2 3 mila euro al mese potevamo mettere ormai c'è abbiamo superato budget di advertisi di 150 mila euro al mese in alcuni mesi tendenzialmente no ma non è che ci arrivi in un attimo semplicemente perché capisci che quello che stai facendo ha un risultato quindi tendenzialmente è un falso problema il budget nella misura in cui sai far rendere i soldi online ora il problema opportunità della maggior parte degli attori che non ottengono risultati è un problema di competenze know how conoscenze questo è il grande problema tendenzialmente il mondo del marketing online un mondo a non così alta intensità di capitano che non servono i soldi ma male che vada nella peggiore ipotesi scali c'erano indigenerci siamo partiti davvero con qualche migliaia di euro e ora facciamo milioni di euro l'anno di fatturato quindi tendenzialmente male che vada a scali un pochino alla volta metti mille produci 3.000 di ritorno metti 3.000 produci 9.000 metti 9.000 produce 27.000 man mano che moltiplichi poi ti salgono i numeri e con i soldi che che con con quello che incassi da quello che fatturi poi reinvesti quindi tendenzialmente peggiore delle ipotesi la cosa la cosa che però non può mancare sono le competenze le conoscenze la capacità di capire cosa serve per fare per ottenere dei risultati di fatto quindi questo è un po la la differenza e soprattutto poi più sali di livello e più e l'e commerce è un mondo dove il digital marketing ad alti livelli tendenzialmente no perché è un po come se fosse chi deve vendere in e commerce soprattutto in alcuni settori competitivi è un po come se dovesse fare l'olimpiade del marketing online perché il marketing online e l'e commerce è più competitivo rispetto a chi per dire fa un marketing online in cui semplicemente non vende direttamente in e commerce ma cerca di portare clienti sui punti vendita o fare anche l'e generation per poi vendere offline cosa l'e commerce è più competitivo quindi il seo devono essere più bravi quelli che fanno campagne su google devono essere più bravi quelli che fanno l'ending peso essere più bravi e così via ora cosa ti serve per riuscire a vendere online numero uno la prima cosa che ti serve è un chiaro modello di business un chiaro modello diviso vuol dire di avere delle idee chiare su come vendi online vendi in e commerce con magazzino logisti e così via o meglio vendi in drop shipping cioè non è magazzino logisti e non è niente di tutto questo il drop shipping però considerate questo tanto facile entrarci nel drop shipping tanto facile uscirci tendenzialmente cioè facilità di entrata facilità di uscita perché comunque anche qui non che non si debba fare drop shipping attenzione ma bisogna farlo con con un progetto intelligente ben fatto altro anche qui un altro modello diviso e funzionale può essere quello del digital sales cioè alla fine si vende online ma con una vendita assistita da esseri umani noi formiamo moltissimo su questo metodo digital 6 cioè prima che l'utente compri parla via chat via telefono e a volte anche video videocomunicazione con qualcuno dei nostri poi acquista tendenzialmente e questo modello anche lui alternativo molto valido oppure ancora abbiamo la possibilità di fare un negozio su amazon altro modello o la più semplice di tutti faccio una pagina di vendita e basta con un carrello di vendita appunto un sito monopagina monoprodotto monoservizio 6 page e vendo via dove per lui dei chiare su che cosa voglio fare tendenzialmente questa è la prima cosa seconda cosa secondo aspetto questo è quello più frequenti devo migliorare sui canali di traffico alla fine come vi dicevo il problema di mettere in piedi un sito e commerce è un forso problema il vero la vera criticità e portarci traffico di qualità cosa vuol dire traffico di qualità traffico di utenti a target in funzione di quello che voglio vendere e quindi utenti davvero che per i quali quello che vendo è interessante utile di valore e che quindi potrebbero davvero comprare traffico dove lo posso fare seo google ads facebook ads link di nazi youtube il blog aziendale altri social email marketing file marketing digital piazza e marche tutte cose fondamentali molte aziende usano solo uno o due di questi canali noi in digital coach quando uno si vuole iscrivere a qualunque cosa voglia fare tendenzialmente noi insegniamo comunque le basi di tutte un po come dire tu non è che puoi pensare di diventare un grande calciatore solo imparando a tirare i rigori colpi di testa e basta tutto il resto non hai le basi no tu diventi un grande attaccante anche se vuoi fare l'attaccante nella vita prima dei veri fondamentali saper passare contrastare come dire colpire di testa lanciare lungo lanciare corto stop di petto tutti i fondamentali di quello sport e poi tu sei particolarmente motivato e talentuoso come attaccante va bene ti mettiamo a fare l'attaccante ok ma le basi le deve avere di tutto perché comunque il gioco porta a vincere con la squadra non solo con quello che fai con quel fondamentale colpo di testa un tiro dal rigore quindi questo è un po la 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 cosa terzo terzo tema fondamentale anche questo è quello degli strumenti di software giusti e anche qui i software per fare marketing online sono tanti sono troppi e questo è un problema cioè sarebbe meglio fossero meno tra virgola avere meno opportunità sarebbe più semplice quindi cosa succede che ci sono aziende che passano la vita passando software l'altro 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 ancora o che quando scegliere un software anche solo per mettere sull'e-commerce sbagliano cms prendono dei cms a volte degli accrocchi che gli ha dato l'agenzia di turno che che usa solo l'agenzia di turno dei cms improbabili cms che gli ammanettano tra virgolette le metto nel senso che poi diventi schiavo succube di quel software nel senso che poi non esci più e quindi anche qui saper scegliere in maniera intelligente è fondamentale perché rischi di metterti un vicolo ceppo da questo punto di vista quindi ci sono software per fare i mail marchi software per fare i fan software per gli analiti software per il monitor della concorrenza quelli per gestire i social c'è una marea sono davvero tanti e anche qui il problema è che qualcuno è meglio che ti fa aiutare da qualcuno a scegliere quelli giusti per il tuo caso che non sono sempre sempre uguali per tutti quelli giusti dipende da te dal tuo caso ma diciamo che anche sui software bisogna e sugli strumenti fare le scelte giuste ora già solo nella market to mesh ci sono tanti software nei crm una marea di software negli autoresponder anche queste sono solo una piccola lista cioè ci sono migliaia di software di mail marketing ci sono migliaia di crm in giro online migliaia davvero probabilmente decine di migliaia se andiamo a prenderli proprio tutti ma migliaia sono quelli valutabili considerabili migliaia di software di analytics di tutti i tipi colori e razze da questo punto di vista devo fare scelte giuste e le scelte giuste non sono giuste per tutti ma sono quelle giuste per te per il tuo azienda il tuo modello i tuoi budget le tue competenze interne esterne e così via quindi va fatte delle scelte intelligenti quindi devi capire quarto punto il tema dei famosi funnel i funnel non è che siano un miracolo ma nemmeno sono inutili i funnel sono utili se fatti all'interno di un contesto di una strategia digitale in cui c'è anche dell'altro non c'è solo il funnel e in cui soprattutto il funnel lo sai far muovere nel tempo lo sai variare e modificare nel tempo e oltretutto non hai solo un funnel ma ne hai più di uno tendenzialmente e quindi questo è un po la 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 cosa e fare il ti servono per migliorare i tassi di conversione quindi quanto spendi in advertising o in campagna online e quanto ti torna in fatturata ecco un funnel efficiente ti aiuta a migliorare questo rapporto un fare inefficiente te lo peggiora il funnel non sto ora cosa servirebbe una lezione solo per sul mondo dei funnel però non abbiamo il tempo di farla considerate che di fatto sono quei come dire quei processi che devono portare un utente sconosciuto a conoscerti interessarsi a te considerarti tra le due tre opzioni da da valutare quando decide di acquistare per poi decidere di acquistare da te per chase quindi questo un po è un imbuto quello del mondo dei funnel ma ma tendenzialmente anche qui un fare come vi dicevo alla fine solo uno strumento che deve essere dinamico cambierà nel tempo che al servizio della tua strategia digitale non è un miracolo che da solo fa tutto bene punto 5 migliorare la digital strategy e anche qui cosa mi riferisco sulla digital strategy è un po come dire ecco ve lo faccio vedere questa slide immaginate vincere nello sport dell'e-commerce ovvero delle vendite online che vuol dire digital marketing e 6 online alla fine prevalentemente perché ve l'ho detto fare il sito e commerce è proprio come semplicemente comprare il ticket per partecipare alla partita tendenzialmente ma poi non vedi nient'altro la partita si vince se tu intanto metti insieme un team non necessariamente di persone ma almeno di canali che utilizzi poi questi canali potrebbero in una micro azienda lo gestiscono due persone ovviamente no ma intanto un team di canali e strumenti che utilizzi e soprattutto se metti ogni canale nella giusta posizione in campo ve lo immaginate la carriera di messi se il suo i suoi allenatori avessero messo a fare il terzino sinistro o se a fare il difensore generale dove sarebbe arrivato nessuna parte no o ve lo immaginate non so uno dei dei dai piedi quadrati come magari chiellini per dire a fare l'attaccante il centravanti di una squadra se l'allenatore avessero sbagliato a mettere in campo da un grande difensore un campione come difensore facendo la scelta giusta lo trasformi in un pessimo attaccante quindi anche qui ogni canale va messo nella strategia digitale dell'azienda al posto giusto quindi il canale ogni canale non è che sia valido o efficace un'efficace utile non utile semplicemente è funzionale alla strategia della squadra oppure non lo è in funzione di qual è il ruolo che gli chiedi di giocare allora è giusto ed è logico che ci siano canali a ciascun canale dobbiamo attribuire il ruolo giusto cioè per darci un'idea io faccio spesso nei nostri percorsi uso molto le metafore per far capire se principi complessi in maniera semplice perché la digital strategy è una roba molto complessa effettivamente però per farla capire in termini semplici un po come se facessi la metafora ora cristiano ronaldo o tendenzialmente è un giocatore che tu sai è un investimento giusto o sbagliato ma dipende dipende da qual è la squadra in cui va a giocare tendenzialmente perché cosa succede tu sei sicuro che ti fa 30 gol a stagione il problema è quanto ti costa quindi se fa 30 gol a stagione ma ti costa anche 30 milioni di euro a stagione allora è un problema sul costo questo fa sì che ogni squadra non vorrebbe avere cristiano ronaldo per i suoi 30 gol ma poche squadre se lo possono permettere perché sono in grado di farlo rendere quanto costa più di quanto costa ora google ads per esempio questa cosa è un fuoriclasse delle vendite online tendenzialmente ma la questione che bisogna inserirle in una squadra capace di far rendere di massimizzare il rendimento di questo fuoriclasse che segna una marea di gol ma costa tanto tendenzialmente no e questo è un po la solo l'ultimo degli degli esempi anche qui non puoi e non devi aspettarti da altri canali la stessa cosa che ti aspetti da questo da questo canale per cui a volte si dice no beh ma fare pubblicità display inutile non è che sia di inutile no attenzione semplicemente la pubblicità display inizia l'azione ma da sola non converte non fa la vendita non è l'ultimo canale non è l'ultimo giocatore che tocca palla prima che poi si mette in rete ma è semmai il giocatore che la fa partire da lontano l'azione quindi sembra che tu non gli dia importanza perché nella classifica cannonieri non lo vedi quindi tu vedrai gioco se che capocannonieri vedi solo chi ha toccato l'ultimo pallone prima che questo entrasse in gol ma nel gioco del calcio non sono importanti solo i capocannonieri sono fondamentali tutti ecco le marche online la stessa cosa si dà troppa rilevanza ai canali che ti fanno teoricamente le conversioni o le vendite e troppa poca ai canali che ti devono far conoscere quelli che devono influenzare positivamente la decisione quei canali che ti devono riportare l'utente sul tuo sito web quelli che ti devono fare il cosiddetto l'inurturing quindi dare informazioni utili a renderti credibile a generare fiducia che ogni canale deve avere un ruolo all'interno della strategia se non fai questa cosa non riesci a ottenere il risultato che ti aspetti da questo da questo punto di vista quindi ogni canale deve essere il ruolo giusto per esempio una delle cose classiche e tutte queste aziende che vedono ma fios cosa fai faccio pesù cazzo va bene ma come va facebook mi fa mi porta una marea di libero poi va a vedere dentro siccome loro non sanno leggere non sanno usare gli insights difeso e feso ti fa vedere quello che gli torna comodo l'agenzia che ti fa peso ti fa vedere quello che che torna comodo a facebook e l'agenzia tendenzialmente poi in realtà quando gli insegni un di robe capiscono che tendenzialmente facebook e l'agenzia ti dicono che tu hai fatto mille conversioni 100 conversioni per dire in realtà tu le fatte davvero di anagrafiche vere di persone che non ho preso in realtà ne hai 13 14 dici che differenza però il problema il problema anche qui che a un giocatore viene sovracquotato b tu non sei grado di capire che in realtà quel giocatore è vero che sovracquotato su queste cose però ti è utile per altri motivi lui fai cross fai cross e fa tanti assist all'altro che segna tendenzialmente quindi ha comunque un ruolo utile interna strategia solo che non è quello che tutti vorrebbero cioè quello del goleador che tutti vorrebbero e che tutti ti cercano di farti vedere il fatto che sia un goleador ma non è vero e non è nemmeno necessario se ci fosse più cultura che ti debbano vendere un centrocampista per un grande goleador quando non lo è un grande goleador però è un ottimo centrocampista tendenzialmente ora la questione poi un pochino questa il tutologismo tendenzialmente c'è fare tutto sapere tante cose fondamentali poi però bisogna avere la questione fondamentale che ormai così come negli sport ogni giocatore si specializza in una parte del campo ed è normale perché poi deve diventare molto competitivo quella parte del campo quindi c'è chi poi acquisisce fondamentali ma poi diventa un attaccante chi diventa un difensore che un centrocampista perché hanno caratteristiche diverse ed effettivamente così come nel mondo dello sport bisogna poi avere un focus anche nel mondo di digital marketing bisogna fare questa cosa o meglio ogni squadra ha bisogno di allenatore nello sport quindi se come dire voi l'avete mai vista una squadra professionista che non ha un allenatore non esiste anche l'esperimento delle squadre inglesi che un po di anni fa avevano il il giocatore coach barra manager anche quello tutte quanti hanno smesso di fare quella cosa ha fallito tutte quelle situazioni perché perché ogni squadra deve avere un allenatore un bravo allenatore ecco l'allenatore digitale di questa cosa è anche qui poi l'allenatore non è uno che ogni tanto viene come dire nello spogliatoio una volta a settimana una volta al mese no allenatore è lì tutti i giorni tutte le settimane fa questa cosa e l'allenatore se voi volete vincere partite e marchio un allenatore deve essere qualcuno che sta nell'azienda tu imprenditore tu socio tuo figlio tuo cugino tuo il tuo collaboratore fidato il tuo manager che lì da anni anzi possibilmente magari 23 diccio allenatore e secondo nell'allatore in seconda perché quella cosa lì la devi avere dentro poi ai giocatori che compri vendi le agenzie i consulenti che i dipendenti i provider che compri vendi entrano escono ok però tu hai una strategia una filosofia al controllo della macchina questo è quello che bisogna fare di fatto ora prendo faiato perché vi ho massacrati scusate so che è tutto d'un tutto d'un fiato perché in poco tempo dobbiamo passare concetti che in realtà sono estremamente complessi no ora quello che abbiamo visto finora se siamo d'accordo sono di fatto gli errori più ricorrenti e diciamo anche oltre gli errori più ricorrenti anche le soluzioni a questi errori più ricorrenti perché esistono delle soluzioni chiaramente no poi però gli assetti possibili sono tanti cosa intendo dire assetti possibili io posso come dire rivolgermi solo alle due budget si fa fare tutto loro posso rivolgervi solo di consulenti lei far fare tutto loro posso fare un mix di due budget consulenti oppure posso l'estremo opposto dall'altra parte ho tutto dentro cioè nessuna web budget non su un consulente online ho tutto il nuovo tutte le figure di persone dentro noi per esempio il coach siamo questo estremo non abbiamo tutto il noi tutte le competenze ideali quello per noi non parlo nemmeno di quello che poi insegniamo gli studenti ma intanto per noi per fare marketing vendita noi abbiamo tutto dentro quindi non abbiamo mai usato web budget si mai usato consulenti esterni cui darino assurso le cose non vuol dire che ho che non abbiamo usato dei professionisti esterni ma abbiamo usati per formarci e fare coaching quindi facciamo noi stessi molto formazione coaching con americani col super esperto di ogni roba pentaspecialistica che esiste sul mondo ok ma poi vogliamo dentro quel know how quelle capacità quelle cose questo all'estremo non ci arrivi da un giorno all'altro questo estremo tendenzialmente però vi dico che se vuoi avere il controllo delle cose dove stanno au sta fuori sta mezzo fuori mezzo dentro sta tre quarti fuori tre un quarto dentro sta due terzi l'equilibrio di dove sta determina poi quanto riesci a far fruttare il digitale perché è questa la è questa la questione se solo ogni tanto ti arriva qualcuno che ti dà suggerimenti alla tua squadra ma non è l'allenatore della tua squadra ti può dare qualche spunto va bene ma prendere un grande allenatore fa una grande differenza tendenzialmente oltre ovviamente avere grandi giocatori che siano poi nel medio lungo termine la tua squadra ora il il problema io lo capisco che per molte aziende il livello di complessità digitale alto quindi dicono allora si rivolgono alle web budget perché le web budget si dovrebbero dargli tutti i ruoli tendenzialmente nuove immagini si dovrebbero esserci tutti quegli esperti necessari per fare le cose però anche qui un po di incidenzi gt ci sono qual è un qual è la questione idealmente ogni azienda avrebbe bisogno di video lo scenario ideale poi ragioniamo su quello che poi realisticamente fattibile in termini budget reperibilità ai professionisti e quello che invece non lo è idealmente ogni azienda dovrebbe avere un digital strategist cioè qualcuno che fa e nel tempo eventualmente modifica le strategie cioè che definisce su quali canali puntare come integrali tra di loro che ruolo dare ogni canale di marketing che cosa devo chiedere a facebook cosa devo chiedere a youtube cosa devo chiedere a google cosa chiedere la sé così via e come farli giocare bene insieme tra di loro questo è il digital strategist eventualmente dopo di che idealmente se uno vuole fare un gran gioco di squadra avrebbe avrebbe bisogno di un terzino di un centrocampista di un attaccante perché questo è un po la cosa no quindi nel nostro squadra digitale di un seo manager se un manager un social arts manager e così questo sarebbe l'ideale ovviamente no se sei una squadra già di livello alto la maggior parte però delle aziende e degli commerce non possono permettersi di avere subito tutta questa squadra di professionisti interni in realtà vi dirò non si riesce nemmeno a procurarsela perché i bravi seo manager i bravi se manager i bravi analytics manager non li riesce a prendere sul mercato riesce a prendere perché sono troppo ambiti anche le grandi aziende se fanno fatica se li sciulano uno con l'altro perché non ce n'è abbastanza di professionisti di livello alto per poterli assumere tu e verli tu full time da te quindi questo è un problema effettivamente sul mercato l'altra cosa che poi serve è che servono degli operativi cioè qualcuno deve fare strategie un po come in una squadra qualcuno fa l'allenatore finisce strategie poi qualcuno deve eseguire ebbene quello che l'attore gli dice deve avere i due livelli perché se hai il manager allenatore il manager allenatore non funziona a livelli alti abbiamo detto quindi questo è un po la cosa quindi avere chi definisce strategie e chi le esegue che sono due cose differenti tendenzialmente e junior che eseguono non hanno capacità di fare grandi strategie però eseguire sono sono cioè sono hanno tempo focus motivazione e capacità per eseguire sui software sui canali le cose che gli vengono dette tendenzialmente ora l'alternativa quali quali sono delle alternative è chiaro prendi un po di web agnesi prendi un po di consulenti prendi un po di persone interne le assumi su tutti schemi infattibili o si può fare così un'alternativa che noi abbiamo come dire applicato con successo in in questi anni un pochino questa posto che le web agnesi le puoi avere i consulenti li puoi avere i dipendenti li puoi avere le persone interne li puoi avere gli stagisti che sono digitali puoi avere assolutamente poi però a te imprenditore o a te responsabile dei risultati di questa azienda direttore commerciale quello che sei quindi a te che devi fare risultato nella maggior parte di casi ti serve un braccio destro ma in realtà il braccio destro di cui bisogno non è solo dici il quello che fa il consulente digitale che forte su google o forte su peso forse su youtube o il digital strategies che è forte a fare strategie basta a te il braccio destro sarebbe un team tendenzialmente cioè ti servirebbe un team questo sarebbe l'ideale c'è così come se voglio vincere una partita a calcio devo mettere in campo un team se no se entro in campo solo con una o due persone perdo anche nel digital marketing soprattutto se il tuo settore è competitivo nell'e commerce molti settori sono competitivi ti servirebbe un team ma abbiamo detto che non è facile è costoso non ne faccio procurarsi e quindi tendenzialmente c'è un problema di costi di reperibilità di questi professionisti e poi di farli davvero giocare bene insieme allora ecco qual è una soluzione alternativa noi per esempio in digital coach quello che facciamo che facciamo ormai soprattutto dalla nell'ultimo anno visto a quei tutti gli incidenti e le problematiche le aziende c'erano manifestato e affittarli tra virgolette questo team cioè gli affittiamo il nostro team gli esperti del digitale cioè i nostri tre nostri coach top cioè il parliamo di top manager di gs o manager di livello davvero altissimo piuttosto che analitismo di alto livello glieli affittiamo perché noi li abbiamo tu non riuscireste a procurarti noi li sappiamo dirigere non li sappiamo inquadrare in un metodo il digitale di framework in una strategia in cui sono abituati a giocare loro tendenzialmente e oltretutto voi noi ve li possiamo dare per quota tempo quindi vi costano molto meno di quanto vi costerebbero se potesse doveste averli internamente in un'azienda no da questo punto di vista e oltretutto poi loro agiscono in maniera disinteressata perché noi e loro non siamo una web agency non siamo consulente online e non siamo nemmeno un dipendente che deve chiedervi di essere assunto mantenere il suo posto di lavoro tendenzialmente siamo un po una parola una questione un po super partes da questo da questo punto di vista con questo team di cesso senza il programma i programmi che 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 per esempio adesso vediamo stanno dando i migliori 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 soddisfazioni sono un po quelli in cui di fatto cosa facciamo ti diamo il nostro team di chiediamo un digital strategist il quale coordina un team fino a 30 esperti quindi l'esperto seo l'esperto il manager specializzato in facebook quello specializzato in alitis quello specializzato in wordpress quello in shopify quindi una serie di specialisti che lui lui deve mettere insieme al servizio della strategia che definite insieme e cosa succede ogni settimana c'è degli appuntamenti lui ti mette a disposizione ogni settimana gli specialisti giusti a seconda del momento in cui siete nella strategia che avete definito per un anno complessivamente in questo team a disposizione quindi questa settimana vedi gli esperti di di google alza settimana dopo vedi gli esperti di magari di shopify la settimana dopo quegli esperti in user experience tutti i coordinati attraverso il metodo e con queste persone di fatto puoi coprire tutte le aree di esigenza della tua della tua azienda quindi tutto quello di cui potrebbe aver bisogno la tua azienda in tutte le aree che trovate citate qua e con loro puoi fare a seconda degli appuntamenti puoi fare strategie ma non sono strategie generali per fare so efficacemente servono a seo strategi per fare youtube efficacemente ti serve una youtube strategy non solo una digital strategy complessiva ma una strategia su quel canale ti aiutano a scegliere eventualmente anche i fornitori a vedere vedere i preventivi dell'agenzia a fare a fare gli audit vedere come stanno performando le agenzie come stanno performando i collaboratori interni come sta performando il consulente perché con noi puoi leggere correttamente i kpi gli analytics le cose ti aiutano a scegliere modificare i canali e i software nelle migliaia di software che si potrebbero scegliere ti aiutiamo a prendere quelli giusti per te eventualmente ti aiutano a fare meglio perché nell'appuntamento settimana possono anche definire i piani di azione che devono essere eseguiti dall'agenzia dal consulente dallo stagista dipendente con genere se ti incarti e bisogni tecnico sul porta puoi ricevere supporto le campagne feso si sono impiantate non capisci perché lo specialista ti può dire perché ti fa questa cosa ti posso aiutare anche a reclutare persone perché loro sono in grado di capire cosa deve come come devono interrogare un candidato per fare cosa ne so per esempio per fare se mi sono in solo di capire qual è un bravo se speciale quale non lo è invece tendenzialmente ero e quindi è un tipo di programma che ha durata di un anno ti mette un intero team ed è veramente il top di quello che si può pensare di fare sostanzialmente nel digitale ed è un metodo molto alternativo rispetto a tutto quello che c'è sul mercato di agenzie consulenti e cosa del genere altrimenti per le aziende un po più piccole che magari non vogliono fare un programma così strutturato le micro aziende cosa il genere eventualmente delle alternative sono delle soluzioni miste di formazione perché devi capire l'utilizzo dei canali c'è qualcuno nella tua azienda deve capirne presso se nei guai da questo punto di vista però poi magari ti fai delle sessioni di coaching per essere aiutato a fare solo alcune cose quindi solo con 123 coach tendenzialmente no ed eventualmente se ti servono collaboratori candidati stagisti poi rivolgerti a noi per procurarti lì da questo punto di vista no quindi procurarti queste queste persone sono soluzioni un po più per le micro aziende quindi questo è un po un'idea ora vi voglio lasciare prima di dare spazio alle domande con luca vi lascio con questa cosa per aver partecipato alla webinar di oggi potete richiedere una sessione in consulenza di digital strategy gratuita per la vostra azienda una sessione di un'ora in cui vi facciamo un'analisi della del vostro status online e vi diamo dei suggerimenti su quali canali strumenti e strategie potreste utilizzare per riuscire a vendere di più online se siete un'azienda significativa ce lo scrivete nel contact form tendenzialmente un team chiaramente di persone di nostri di collaboratori di project manager di digital strategy che lavorano questo a queste consulenze se siete un'azienda rilevante come volumi ce lo scrivete qui nel nel messaggio è possibile anche che i nostri decidano mi chiedono di poterla fare io direttamente questa consulenza però io le faccio solo su su aziende di un certo di un certo livello scriveteci fateci capire chi chi siete diversamente c'è gente validissima formata da me assolutamente che che vi fa che che utilizza i nostri metodi modelli eccetera che vi può far fare la sessione quindi sono assolutamente in gambissima diciamo per le situazioni top posso anche valutare di farla io bene vai luca ti passo ti passo però abbiamo qualche domanda intanto rispondo a riccardo che giustamente chiedeva se era una presentazione commerciale ovviamente il parlare di questi temi qua è interessante nel senso che come dicevo all'inizio quando si parla di commerce è interessante affrontare quelli che sono gli errori le soluzioni che possono essere messe in campo ovviamente noi in particolare ospitando luca digital coach gli ho lasciato libertà ovviamente di citare la sua azienda ai servizi che fanno perché mi sembra corretto perché da parte loro ci portano ci portano formazione ci portano idee e soluzioni poi ovviamente siete liberissimi voi di decidere se eventualmente informarvi sui loro servizi o meno quello non è assolutamente obbligatorio però secondo me quando abbiamo parlato io luca era interessante valutare quelle che sono ad oggi visto che è il tema come dicevo di commerce negli ultimi due anni un tema fondamentale e nella mia scaletta di webinar mensili era un tema da affrontare conosco luca so che ha una certa professionalità una certa conoscenza del tema ed era interessante secondo me poi potreste dire il contrario a andare ad analizzare quelli che secondo la loro esperienza di migliaia e migliaia di persone contattate sono stati proprio gli errori che si stanno facendo sono fatti soprattutto negli ultimi due anni abbiamo visti tantissimi mi trovo ovviamente d'accordo con tanti di quelli che ha citato luca perché ho visto le stesse cose di tanti clienti eh di sideground ovviamente che poi adesso vedremo anche le domande come come venivano menzionati tante persone giustamente io lo capisco soprattutto con la chiusura dei loro locali hanno voluto lanciarsi nel nel e-commerce e da lì poi il boom come anche il boom dei bloggers e quant'altro ma poi tante volte non c'è la competenza non perché la gente sia sciocca ma semplicemente perché dall'esigenza nasce la volontà di fare qualcosa ma non essendoci competenza si va poi alla fine a sbattere contro un muro e quindi secondo me andare verso l'analisi di quelli che sono gli errori e le possibilità di soluzione è sicuramente interessante poi ci sono ovviamente mille soluzioni tra cui digital costa a cui far affidamento ma certo ci mancherebbe poi comunque tutta la presentazione ti chiedo di togliere pure la condivisione schermo che almeno ci si vedono i nostri faccioni e aspetta che cerco la scena x x sopra il stavendo se stavo dicendo che se riesci bene ok trovato trovato non trovare è quello di fare se ritornati a pieno schermo poi sto dicendo che comunque la registrazione e le slide di questa presentazione vengono inviate quindi se volete visto che alcune persone chiedevano rispetto a questi servizi che tu parlavi se sono gratuiti o meno come funzionano eccetera basta informarsi tramite quel link provare anche la consulenza che ha detto luca gratuitamente e potete avere tutte le informazioni passare le domande perché siamo scusami sì quella consulenza è gratuita certo esatto sto dicendo passiamo alle domande perché siamo leggermente in ritardo quindi non vorrei perdere altro tempo su questo parto con la prima domanda allora siccome la domanda è complessa cerco di riassumertela in qualche modo esiste una strategia ideale o un tipo di messaggio specifico che può essere utilizzato quando si vuole vendere un prodotto esempio specifico se io produco faccio diciamo ricamo e cucio del degli oggetti oppure vendo quadri faccio dipingo quindi sono una persona singola che non ha dietro alle sue spalle un'azienda con la quale può investire avere digital strategy e quant'altro sulla su che cosa è che dovrà investire principalmente quando si è all'inizio è una questione di copi è una questione di canali qual è il tuo suggerimento sarebbe sarebbe bello un po come dire appunto se io voglio vincere una partita a calcio tendenzialmente mi basta comprare un calciatore allora la soluzione qual è chiaro se tu sei in un settore poco competitivo cioè non così competitivo tutto sommato puoi vincere anche solo se hai una o due persone che se la cavano abbastanza bene su diverse cose quindi vuol dire tecnicamente che ti serve una digital marketing specialist che sappia fare un po di google un po difeso un po di una cosa un po dell'altra tendenzialmente e ovviamente la situazione più economica di tutte è quella se dici da marketing specialist e tu tendenzialmente perché così non hai più persone da pagare non hai più più attori da da dover pagare interni esterne cose del genere quindi quella è se sei all'inizio piccolo ai poche ai poco budget e la soluzione chiaramente più più economica in realtà anche più funzionale per carità che richiede più sforzo perché devi devi imparare a cavartela su un po di cose impara un po di cose sì sì no esattamente così esattamente così poi cosa vuol dire e devi fare una campagna deve fare il copy giusto devi fargli la pagina atterraggio giusta non c'è una sola cosa che è dato il punto è sempre quello che non c'è una non c'è la soluzione magica la pozione il bottone definitivo che schiacci e funziona e anche se ci fosse come come citavi te per alcune strategie che poi sono alcuni degli errori anche ci fosse il bottone magico che risolve tutti i problemi al momento è al momento perché poi l'abbiamo visto soprattutto in ultimi due anni nel lasso di qualche mese di qualche settimana anche le strategie cambiano i topic cambiano gli interessi cambiano e quindi quello che può funzionare oggi come anche magicamente poi non funziona domani quindi è una commissione di quelli che sono diverse strategie canali soluzioni da attuare come diceva luca all'inizio fare e commerce non può essere preso alla leggera nel senso di prendo faccio e vendo è un processo che richiede tempo richiede competenze che non tutti magari hanno che serve tempo per sviluppare quindi immagino questo volessi dire sì 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 è esatto cioè l'e commerce è una bellissima cosa cosa fantastica anche per un imprenditore o aspirante imprenditori pensare una figata per carità però come ogni roba bella eccetera comunque richiede il suo il suo impegno le sue cose negli ultimi due anni soprattutto troppi cosa succede questo eccesso di italia un paese delle mode tendenzialmente quando una cosa va di moda poi tutti ci si buttano tendenzialmente il drop shipping la vendita su amazon sono cose bellissime però il problema è stato che sono state presentate troppo in maniera semplice semplicistica che troppo ci sono buttati sottovalutando l'impegno le cose eccetera e quindi la maggior parte di questi non sono riusciti hanno fallito e hanno magari buttato una cattiva numero su queste cose che in realtà sono positive perché il dropship è una bella cosa vendere su amazon anche avrebbe la cosa di come se una gran bella cosa però semplicemente bisogna avere la coscienza del fatto che è uno sport che ti richiede di 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 essere preparato per quello sport giusto prima di passare a domanda rispondo visto che sono state due domande velocemente in chat non vi preoccupate che tutto quello che state vedendo adesso vi arriva domani tramite mail con la mente con la quale vi siete registrati vi arriverà la registrazione di tutto il webinar e le slide con tutte le informazioni che abbiamo visto stasera quindi tranquilli si tenevano a botte di ferro prossima domanda di un altro luca stasera la serata di luca come trovare il punto giusto il punto giusto di equilibrio tra l'investimento e il rendimento e fa un esempio oggi investo 500 euro al giorno e ne fatturo 3000 al giorno ma è giusto pensare che se raddoppio l'investimento allora raddoppio anche il fatturato il marketing qual era la sostanza cosa succede la principale differenza tra il marketing offline e marketing online che marketing offline non c'è una delle differenze marketing offline le aziende lavorano budget rigidi sono abituati cioè c'è la contesa per il budget che si deve prendere i marchi risorse umane le vende eccetera inizio anno perché dopo che c'è questa contesa il tuo budget rigido quindi anche te market se ti hanno dato 500 500 euro anche tu lo faccia fruttare un milione di euro o niente è sempre quello nel marketing online invece bravi marketer lavorano un po come vi dicevo nell'esempio vi facevo io lavorano budget aperti quando vi dicevo il nostro budget in digital coach su alcuni canali e su alcune campagne infinito cosa vuol dire vuol dire che quando io so che una campagna a un roi vuol dire che mi produce a 500 mi porta 3.000 io su quella campagna effettivamente punto a metterci intanto 750 800 900.000 poi tendo a portarla al doppio e vedere se mi mantiene un roi positivo anche se un pochino si deteriora ma rimane decisamente positivo io continuo a metterci i soldi qui tendenzialmente sì quindi il problema è quello di essere capaci di tracciare il rapporto tra quanto investo in quella campagna e quanto poi quella campagna mi porta nella misura in cui so tracciare questa cosa vedo che i rapporti si mantengono positivi io sì dovrei aumentare sempre il budget su quella cosa è uguale tra l'altro sempre la stessa persona poi implemente diciamo che aggiunge la domanda e che è perfettamente linea con quello che stai dicendo te dice ma in una situazione come quella che tu stai spiegando l'investimento su ciò che funziona non rischia forse di saturare un po il target facendo un esempio su un canale come facebook dove io vedo che quella campagna puntando 500 guadagno 3.000 avevamo fatto l'esempio non c'è un rischio che magari allora dico ah perfetto allora invece di investire 500 investo 3.000 sto facendo esempi a caso ma per dire facendo crescere quello che è l'investimento rispetto a un determinato il problema non ce l'hai te con te stesso te con le altre persone che lavorano a tua azienda lì quel problema non esiste nel senso che tu prima che con quella strategia che ha funzionato su un piccolo numero cioè su come dire con 500 euro prima che tu quella strategia che ti funziona la saturi tendenzialmente ai tanti di quei milioni di potenziali clienti se sei un b2c o se sei un b2b comunque tanti di quelle centinaia di migliaia di possibili clienti che insomma ce n'hai da divertirti di di roba da scalare nel senso che se l'hai saturata vuol dire sei già mega milionario non ti prega più niente di fare tu su tu quindi tu il problema con te stesso non ce l'hai se trovi una cosa che funziona ti dico sì fa il possibile per scalarla il problema ce l'hai quando quella cosa che funziona te è la stessa cosa che iniziano a fare tutti gli altri vi faccio l'esempio faccio un esempio molto semplice fino a per esempio ecco noi in italia in digital coach siamo ne parlavo anche oggi con con luca tendenzialmente sei anni fa siamo stati primi in italia a fare il webinar evergreen quei webinar in cui tu dici fai una volta in live e poi lo rimandi sembra che sia live per un po di anni le persone davvero pensavano che il nostro web che c'era tutti i giorni tre volte al giorno e fosse sempre in diretta in realtà non lo erano per un po di anni noi abbiamo fatto questa cosa per i primi 1 2 anni erano agli unici dopodiché ha iniziato qualcuno però per un po di anni questa cosa ha funzionato a bomba era una bomba sta cosa fino a che a un certo punto dopo tre quattro anni sono diventati davvero troppi quelli che hanno iniziato a fare la stessa cosa tendenzialmente perché i software si sono diffusi la voce si è diffusa allora a quel punto dopo tre quattro anni effettivamente anche noi non hanno più funzionato quella quella strategia quella cosa qui abbiamo dovuto smettere praticamente di di farli ne faccio un altro di esempio youtube noi abbiamo iniziato a fare youtube a me mi vedete su youtube a fare alza su youtube da una vita tendenzialmente no e noi abbiamo iniziato a fare l'e generation da youtube anche qui 5 6 anni fa tendenzialmente quando non faceva ancora nessuno l'e generation da youtube era una bomba era un bomba nel senso che convertivamo benissimo a costi bassissimi e le persone che poi tiravano dentro convertivano anche in cliente benissimo fino a un paio d'anni fa ancora la cosa si era deteriorata ma andava meglio l'anno scorso più o meno nell'ultimo anno anno e mezzo un po di personaggini hanno sono usciti col corso di persone sui idee corso per youtube con youtube scale eccetera hanno insegnato a centinaia di altri a fare youtube eccetera così improvvisamente youtube si è riempita di centinaia di persone di personaggi che facevano la stessa cosa stesso modo tutti lo stesso canale è iniziato a funzionare meno per tutti per esempio prendete su youtube negli ultimi tre anni vedevate una marea di di influencer che vi proponevano iscriviti al webinar fa ora io forse non sono iscriviti al webinar eccetera così questa cosa qui ha funzionato per un po ora se notate negli ultimi mesi sono molti molti meno quegli quei personaggi che vi spuntano davanti vi dicono iscriviti anche tu al webinar da youtube eccetera perché perché a molti ormai non funziona più quella cosa ma perché non funziona per il semplice fatto che tutti si sono messi a fare quella cosa e quindi il problema ce l'hai quando sono in troppi quelli che fanno la stessa cosa che fai tu perfetto se siano chiarissimo è verissimo vado avanti con una domanda alla quale io sinceramente non so rispondere è curiosa dice non ho sentito parlare di pinterest mentre pare che insieme anche agli altri canali ovviamente possa oggi essere un canale interessante per la vendita online per l'e-commerce io dico che non saprei bene rispondere perché non ho una grande conoscenza di pinterest l'unica cosa che so di pinterest è che visto che bisogna sempre conoscere proprio target se non sbaglio la stragrande maggioranza degli utenti in pinterest sono donne allora pitte tra l'altro capita a caso proprio il fatto che proprio noi abbiamo avviato anche la le operazioni in spagna quindi ora siamo presenti anche in in spagna da poco da un mesetto circa e proprio oggi abbiamo attivato l'account pubblicitario pinterest per la spagna tendenzialmente a quello per l'italia ce l'avevamo già in attivato per la spagna parlavamo proprio oggi di questa cosa con il nostro team di ads e dicevamo va bene ok facciamo le campagne su pinterest però ragazzi qui dobbiamo fare campagne che vanno a donne tendenzialmente di determinate fasce d'età e soprattutto poi dobbiamo riuscire a posizionare il la formazione digitale come come cosa interessante per quelli a cui piace il mondo della moda dell'abbigliamento del design cioè pinterest è uno di quei social che funziona meglio su un pubblico prevalentemente femminile in particolare di settori tipo moda design accoggiature trucco estetica cosa in giro cioè le cose che poi interessano e piacciono di più tendenzialmente donne quindi non è che sia valido dipende da se la tua via persone di quel tipo allora è sicuramente un canale considerabile corretto faccio le ultime due domande e poi direi che possiamo chiudere per non esagerare con i tempi io cerco sempre di non andare poi troppo lungo con la lunghezza del webinar perché altrimenti anche soprattutto in una seconda visione le persone la vedranno dopo rischia di diventare poi molto troppo lungo direi le ultime due domande velocemente la domanda di debora che dice come si può fare una ricerca di mercato per decidere una specifica nicchia in cui posizionarsi e quando posso identificare una nicchia e dire sì questa è una nicchia valida lascio la rosa la te e poi nel caso bisogna distinguere se sei un già un'azienda è già un'azienda già dei clienti il questo fai un questionario non sembra una delle cose che è importante fare in inbound marketing tendenzialmente fai un questionario eroghi un questionario eroghi i tuoi clienti o mangiandogli qualcosa se sei già un'azienda se non sei già un'azienda e non hai ancora un pubblico vuoi avviare una start up un progetto imprenditoriale online cosa puoi fare prepari sempre un questionario tendenzialmente in cui chiederai delle cose tendenzialmente fai una campagna puoi farla dipende dal tuo prodotto se il tuo prodotto fosse anche una cosa bello potrebbe essere anche su interesse se altri prodotti per esempio se hai un prodotto per giovani puoi farlo su tito su instagram cosa il genere fai una campagna ads tendenzialmente nella campagna ads ovviamente fai delle ipotesi by persona se tu pensi che il tuo pubblico potenziale potrebbero essere donne di una certa età di certe aree geografiche per la campagna con quel targeting gli proponi di partecipare al questionario gli dai un benefit qualcosa in omaggio tendenzialmente qualche cosa glielo devi dare un campione un piccolo omaggio qualche cosa e in virtù di questo su quelle belle persone fai compilare i questionari una volta compilati ricevute risposte ai questionari allora poi sulla base di questo poi modifichi la strategia sulla base delle risposte che ottieni questo è interessante ottimo vado con l'ultima domanda di emanuele che dice è plausibile dire che alcune aziende possono essere troppo piccole per fare pubblicità diciamo le micro imprese fatte da una persona nello specifico raggiunge nello specifico quando il prodotto è troppo limitato per il pubblico già presente e è un aumento della produzione snatura il prodotto quindi stiamo parlando ok di è come se fossero quasi pezzi unici quello da cui fa riferimento sì ma se no in realtà in realtà la questione che prendete anche solo il fenomeno degli nft attualmente no gli nft perché valgono così tanto eccetera perché sono pezzi unici quindi in realtà solo questa cosa di quanto clamore e quanto business si sta generando intorno a degli scarabocchi digitali perché alcuni sono davvero degli scarabocchi digitali quindi i punk nft che si che si trovano io prendo per il culo alcuni dei nostri nostri docenti che sono pienamente nel business li chiamo critto punk dai critto punk come va tendenzialmente no poi però allora ci stanno anche facendo le buone cose prendo in giro con questa cosa il critto punk tendenzialmente no però se ci pensate dietro a uno scarabocchio digitale come critto punk questa roba vale decine centinaia migliaia di euro perché perché unico quindi in realtà è vero il contrario di quello che detto quando hai dei pezzi unici online hai un business ovviamente a patto che al mercato piacciono interessi no perché se non piace il piaccio a nessuno non ci viene ma se piacciono interessano alla al mercato hai una cosa estremamente interessante perché la 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 cosa più importante alla fine nel commerce è davvero avere un prodotto servizio unico e quando davvero è un prodotto artigianale unico che fai tu quello è il top sì sì no è vero poi è ovvio che ci sono mille situazioni nel senso che c'è anche la difficoltà mi immagino della singola persona che fa un qualcosa di artigianale ma non è conosciuta o magari produce qualcosa che non è super appealing diciamo rispetto al mercato quindi alle persone perché poi lo scarabocchio per quanto possa essere lo scarabocchio io non lo capisco e mi fa schifo se poi il mercato in generale dice a me quella roba li piace quella roba li ha tu facendo schifo vale un milione certo e quindi non è brutto a mercato sì sì esatto bravissimo mercato per varie ragioni varie ragioni perché tutti c'è un'enfantizzazione eccessiva nel momento quindi un pompamento al di là della ragionevolezza nel mercato oppure perché davvero è bello e oggettivamente bella fatta bene quella cosa o perché è un brand forte che tira fuori questa cosa non possono essere diversi tu magari non si è un brand forte magari non sei pompato se però fai davvero prodotti belli figlio davvero estremamente utili unici originali il lato il tuo spazio ce l'hai no no infatti poi vedo che si chiedeva come si fa a sapere che un prodotto è unico beh qua ci sono diversi tipi di unicità l'unicità data dal fatto che se un prodotto originale è unico per definizione perché nessuno uguale all'altro e poi c'è ovviamente parlo di origini di artigianalità pura nel vero senso la parola non il fatto che qualcosa a livello industriale artigianale l'altra unicità è il fatto semplicemente che si può ricercare tramite keyword semplicemente su google per vedere tramite quello che io io produco matite fatte a mano con legno di faggio e vado a vedere che effettivamente non ci sia qualcuno che nel mondo o comunque senza andare allargare al mondo nel mio ambiente nella mia zona locale effettivamente nessuno produca qualcosa di simile quando parlo di locale parlo in realtà di italia principalmente perché con il mondo digitale ovviamente se io sono un produttore di matite in legno di faggio bla bla ovviamente non posso pensare di andare a guardare solo il mio vicinato perché magari nel mio vicinato nessuno le vende però scopro che poi su migliaia di paesi in italia ce ne sono decine che fanno la stessa cosa quindi bisogna un po avere l'occhio l'attenzione e la pazienza di andare a fare un'indagine con diversi keyword rispetto a quello che è la mia vendita lì capisco se effettivamente quello che vendo è unico e sono stato originale o se effettivamente non ho copiato ma semplicemente la mia stessa idea l'hanno avuta altre e quindi si può attrarre la strategia in base a quello anche di produzione non solo di vendita sugli artigiani una soluzione anche alternativa è quella di fare produzioni custom tendenzialmente certo parliamoci online mi conosci e ti intercetto capisco che hai bisogno però parliamoci o scriviamo ci compiliamo delle cose un modulo che cosa io ti produco la cosa esattamente per te allora è chiaro che quella è unica certo e giuro poi chiudo perché se no se continuiamo se continuiamo alla fine domande che non finiranno mai una soluzione potrebbe essere come dice emanuele fare pubblicità quindi pagare e aumentare il costo del prodotto oppure mantenere il costo del prodotto ma poi lascio la parola a te mantenere il costo del prodotto uguale fare un investimento in pubblicità iniziale che mi permette di dare visibilità al mio prodotto puntando sul fatto che la visibilità poi faccia percepire che il valore del prodotto è l'unicità del prodotto tale per cui questo risulta essere un investimento ad oggi che mi fa andare in perdita sulla vendita del singolo prodotto iniziale ma che mi fa guadagnare nei margini nel tempo con la vendita il numero più ampio di prodotti lo lascio la parola a te si considerate allora nei settori più competitivi di commerce vi faccio degli degli esempi nella cancelleria per ufficio che un settore per e commerce estremamente competitivo nella nella vendita di attrezzature elettroniche cosa in questi settori tipicamente la normalità è perdere soldi sull'acquisizione di nuovi clienti quindi tendenzialmente gli commerce per stare in piedi devono investire in ads più di quanto gli porta il cliente ma non solo dalla prima vendita ma spesso anche sulla seconda si lavora sul lifetime value del cliente cosa intendo dire amazon è l'esempio più forte di questo quando amazon acquisisce di acquisiti per la prima volta come come cliente poteva permettersi anche di spendere 100 200 300 400 euro posto che non ne ha nemmeno avuto bisogno per carità ma ma per acquisirvi poteva spendere 100 200 300 400 che 500 euro perché tanto tu su amazon quando sei diventato cliente poi nel tempo altro che 500 euro che ci spendi io non so quanto ci ho speso su amazon in questi ultimi soprattutto due anni di roba perché quando acquisisce il cliente poi la mantiene nel lungo termine tendenzialmente ora questo è l'estremo chiaramente ma anche se vendi cancelleria per ufficio il tuo obiettivo è acquisire un cliente che riesce a fidelizzare sapendo già che quando acquisisci un nuovo cliente l'acquisizione in quel settore che è molto competitivo ti costa più di quanto ci farai come utile non solo dalla prima vendita ma mediamente dalle prime 3 4 vendite quindi tu sei inutile su quel cliente se tu quel cliente lo tieni almeno 6 12 mesi e gli fai non tre vendite ma gliene fai nel tempo lo fidelizzi e ne fai 20 30 40 magari se lo tieni per cinque anni ancora di più ovviamente se no è chiarissima corretta ma bene avevo detto mille volte la chiudiamo adesso chiediamo davvero perché sennò qua perché poi le domande continuano ad arrivare ed è infinito credo che l'appetito vi è mangiando sono aggiunte anche in ask e question allora grazie davvero Luca anche per questo webinar perché come al solito sei chiarissimo limpidissimo e tutto quello che hai portato è sicuramente utile a tutti quanti ti ringrazio ti saluto mando un abbraccio a te e a tutte le persone che ci seguono ripeto domani arriverà tutto quanto via email registrazione e presentazione e ci vedremo tra un mesetto più o meno non vi sto a dare la data precisa e andremo a parlare molto 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 probabilmente con il team italiano di Yoast perché stiamo cercando di organizzare una diretta dove andremo a indagare quelli che sono gli utilizzi canonici ma anche un po' più nascosti se vogliamo di Yoast che magari non conosciamo comunque vedere come implementare meglio l'utilizzo di Yoast che è comunque un plugin che tutti utilizzano ma spesso e volentieri ci viene chiesto ma non capisco ma come si fa ma come non si fa e quindi vedremo in diretta e parleremo con gli amici di Yoast su come fare queste cose detto questo un abbraccio a tutti ciao Luca ciao a tutti quanti ciao 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 ciao